La domenica ci saranno i play-off di Serie A di Ciupol a Lendinara, quindi siamo fortunati, sono vicini, se qualcuno vuole venire siamo abbastanza vicini e abbiamo due squadre coinvolte. Una che giocherà i play-off, quindi per vedere come si classificherà tra il primo e il quarto posto, prima con una semifinale con Rovello Sgavis e poi vediamo in quale finale riusciremo a andare, anche se l'andazzo in questo momento è molto positivo e siamo molto fiduciosi. Los Corneteros e Old Nuts, spiegaci la differenza e cosa concorre una e cosa concorre l'altra. Los Corneteros sono appunto la prima squadra che giocherà, come abbiamo appena detto, per il titolo nazionale, mentre abbiamo una seconda squadra in Serie A che sono gli Old Nuts, che si sono classificati ottavi su dieci nella regular season e quindi giocheranno lo spareggio per provare a mantenere la Serie A contro il Castellanza, che è una squadra che si è classificata terza in Serie B. Andrea, facci un pronostico, come vedi i nostri portacolori? Come allenatore della prima squadra posso dire che siamo in una fase buona, abbiamo risolto molte delle difficoltà interne, gli allenamenti stanno dicendo molto bene e noi siamo fiduciosi. Abbiamo già battuto entrambe le squadre, quella che probabilmente potrebbe ripuntare al titolo, mentre quella che dobbiamo incontrare in semifinale le abbiamo già battute entrambe in regular season una volta. Mentre noi come squadra Old Nuts, di cui io sono giocatore, puntiamo a fare bene anche perché il campionato di Serie A quest'anno ci ha temprato e ci ha fatto crescere molto rispetto a quello che è stata la nostra esperienza l'anno scorso in Serie B.